Allora Zio Piero piaceva coinvolgere tutti, mi ricordo in particolar modo una volta che sono stato all'ospedale in Agulo e avevo appena messo piede nell'ospedale e lo zio mi ha dato in mano una telecamera perché mi ha fatto entrare in sala operatoria mentre la zia operava per firmare questa operazione di questa povera ragazza che aveva un problema all'addome e mi ha obbligato a filmare per tutta la durata dell'operazione vicinissimo questa operazione, questa ragazza che ha pancia aperta la mia prima volta che mettevo piedi in una sala operatoria quindi non è stata una sensazione particolarmente diciamo piacevole però allo zio non si poteva dir di no e quindi l'ho fatto con molto piacere. Mentre la zia Lucille mi ricordo in particolare ero in vacanza a Besano, eravamo tutti nel giardino del nono, io come sempre ero il più scalmanato, ero su un albero che stavo cercando di tagliare un ramo, a un certo punto mi è partito il coltello e mi sono fatto una ferita molto profonda al pollice, allora sono sceso dall'albero a tutta velocità, sono entrato nella casa dei nonni, mi sono seduto e mi ricordo l'ultima immagine la zia Lucille che diceva sta per svenire e mi ha preso in tempo prima che cadessi dalla sedia e poi mi sono risvegliato che la zia mi stava medicando questa ferita, quindi un bellissimo ricordo, due zii molto molto speciali.